La SLC CGL sollecita l'intervento di Sunfilm Group che ha disatteso completamente gli impegni presi a inizio febbraio e non sono stati liquidati coloro i quali attendono ancora la loro retribuzione. Siamo partiti in questa avvertenza denunciando i mancati pagamenti rispetto all'ultima produzione cinematografica. In realtà poi partiti lì abbiamo scoperto che c'è un mondo sommerso rispetto a diverse produzioni, anche antecedenti, dove ci sono moltissimi lavoratori non pagati, moltissimi lavoratori a nero, per cui a un certo punto stabilito con l'azienda il termine del 28 febbraio e loro sono resi disponibili a pagare entro il 28 febbraio e antecedentemente avevano già disatteso altre date e altri impegni presi, a un certo punto riteniamo che sia opportuno darci un taglio. Di quante persone si parla? Non esagero se dico che ogni giorno stanno emergendo altre, quindi non dico un basso numero se parlo di centinaia di persone. Avete già interessato Mibac, Miurri, il sindaco di Taranto, il governatore regionale e ancora magistratura e organi ispettivi. Adesso il prossimo passo qual è? C'è una condizione che noi normalmente utilizziamo soltanto in casi estremi e questo purtroppo lo sta diventando. Quindi oltre la vertenza legale che dovremmo per forza attivare, noi credo che ci dovremmo rivolgere anche al Ministero perché si attivi quell'elemento contenuto nella legge cinema che ci consente a fronte di aziende inattempienti di chiedere che vengano applicate sanzioni. Una di queste sanzioni per esempio è fino a 5 anni di mancati contributi statali e potrebbe essere come dire la Sanfilm una di quelle aziende. Noi fino adesso non l'abbiamo utilizzato perché è uno strumento chiaramente importante e potente. Vorremmo utilizzarlo soltanto in casi estremi e la Sanfilm si sta avvicinando ad essere uno di questi casi estremi. Grazie mille.